Non sono sicura Questo video è stato gentilmente sponsorizzato dai Rapp Mi avete mandato tantissimi, tantissimi messaggi chiedendo se fessi anche un codice sconto per i Rapp E oggi finalmente abbiamo anche un codice sconto che vi dico alla fine E i Rapp è una borraccia per me geniale Adesso prima vi mostro la borraccia Questo è il nuovo colore La borraccia termica Sylve Che secondo me è bellissima, perfetta per l'estate Guardate che bello questo grigio Stupendo, chiaro E all'interno è color lime Meraviglioso Super 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 estivo Qui all'interno c'è solo acqua Ma attraverso un pod e l'olfatto retronasale Riuscirete a sentire l'acqua con il gusto che sceglierete In particolare oggi vogliamo stare un gusto super estivo Ed è Fergie Mojito Adoro E appunto qui vedo lime e menta super 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 fresco Personalmente adoro i pote di Rapp Soprattutto quelli molto freschi tipo il limone o con il lime Con l'acqua bella fredda Ci sta benissimo Ed è ancora più dissetante E vi aiuterà a bere ancora di più Perché appunto rende il sapore dell'acqua molto più gustoso Ma in realtà è tutto merito del pod E del nostro olfatto retronasale Andiamo ad aprire Questo è il pod Fergie Mojito Ogni pod dura circa 5 litri Lo vado ad inserire qui Sul beccuccio della borraccia Alzandolo Lo attivo Andiamo a bere Buono Dà una sensazione di estate incredibile Quindi anche se state studiando Se state lavorando Bevete queste per un momento Siete in spiazzo Avervi un bel vergi mojito Stupendo Spero davvero che questa borraccia Più questo pod Vi diano molta voglia Di idratarvi quest'estate Perché so che bere è sempre un po' difficile Ma è fondamentale Puoi figurarsi d'estate Il codice sconto è Chiara Silver E vi dà il 10% di sconto su tutto Vi lascio il link Di Arab Qui giù In descrizione E anche il codice sconto Scritto Così non ve lo dimenticate Vi ringrazio come al solito Per la vostra fiducia Sempre E ringrazio Arab Per aver sponsorizzato questo video E ora Passiamo al video Ciao 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 Grazie di essere Qui Qui Grazie di essere Qui con me oggi Oggi torno con il video Ti addormenterai in 10 minuti Ma se proprio Ne hai molti Molti Di più Oggi sarà edizione estate E da un po' che volevo proporti Un video di suoni liquidi Quindi suoni fatti Con l'acqua Quindi 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 Cominciamo subito Ma prima Metti mi piace il video Se questo video ti piacerà E grazie Come sempre Del supporto Per me è importantissimo E l'apprezzo enormemente Visto che c'è molto caldo Volevo offrirti Un dolcetto Semplice Semplice Fresco Questi sono Dei Macaron Con dentro Il gelato 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 Ora ti faccio vedere Ti dico questi E poi ne puoi scegliere Uno o due Come vuoi Allora Vediamo un attimo Questo E Ai mirtilli Poi ho questo Prova a dire E sì Al limone Questo Un po' più particolare Prova a indovinare E Allo zucchero Profilato Buono Dolce 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 Qui ne abbiamo Due Pistacchio 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 Uno dei miei preferiti E Lampone 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 Anche questo Troppo Troppo buono Troppo Troppo buono Troppo buono Troppo buono Spettacolare Spettacolare Freschissimo E poi due Che Sono gusti E' sempre Gelato Non quasi Freschi Ma Forse Mi preferito Assoluto Insieme al Pistacchio Sto parlando Di Cioccolato Cioccolato E panna Cioccolato E Caramello Salato Lo so Io favo Lo so Allora Dimmi Quale Vorresti provare Ok Mirtillo E Pistacchio Che Bello Anche insieme Adoro Questi due Colori Insieme Ok Tutti Tuoi Poi Ti ricordo Che qui Di fianco A te Hai Sempre La Tuoi Borraccio E Rub Con acqua Bella Bella Fresca E E Con questo Gusto Perci Mojito Che Renderà L'acqua Ancora Potisse Tante E Adesso Cominciamo Non Non c'è video Con i suoni liquidi Che non Possa Iniziare Con Le ampolline Mi amate Mi amate Mi amate Di Grazie a tutti. E' da tantissimo, 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 che non facciamo un video con le ampolline veramente troppo, bisogna rimediare. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Stanno scaricando un pochino le luci dietro. Scusate. Praticamente sono inesistenti. Allora ultimi due. Due. Due suoi. Mentre mi sono letteralmente appiccicata alla sedia. Scontato ma lo amo. Non so, essenzialmente non è il massimo. Però questo suono è la fine del mondo. Mi sembra piaciuto da male. Scusate. 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 ho fatto un po' più lentamente, ricorda? ricorda il suono tipo fatto così ricorda un pochino il suono dell'acqua che spatta sugli scogli lentamente sapete che guarda quando il marmone mosso è calmo e spatta in mano due volte sugli scogli mi ricordo molto questo suono piccoli Sì Se mi porta il pollice mi offi di antizzanzare Quattimo suono Che io adoro Quattimo suono Quattimo suono Quattimo suono Quattimo suono Quante parole essere Dedico questo video in particolare Alla Carly Perché Da quando è uscito lo scorso video dei suoni liquidi Secondo me è un video Che questo sia addirittura un video di Due anni fa No Ne sono sicura La Carly dice che è tutto Era uno dei video preferiti in assoluto E lei adoro questi suoni Quindi Allora Sto pensando lei Mentre lo faccio Spero le piaccio Però ti piaccio farle Spero le piaccio anche a te A te Davvero Per l'assoluto Però l'assoluto comunque Lo faccio per te Lo faccio per voi E la mia attenzione è veramente Sempre quella di Potervi far star bene Potervi dare un momento di relax E sarei la scusa Ma è uscito un uomo che si dichiara Mi prendo mezz'ora per me La scusa per l'assoluto Potremmo aiutare Potremmo aiutare L'interviene Si vede difficoltà Lo faccio con amore per questo Altriche ad amare i suoni in sé Ovviamente Mi rilassa tanto Mi piace tantissimo Amo anche a te Comunque Mi ha fatto bene Sulle oulle degli altri Anche solo se Per bellissima parte Mi piace contribuire al vostro benessere E rende felice 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 io spero dovrò tanto così che ti sia piaciuto allora in questo video penso ci saranno 5 minuti dunque lo fa la notte in cui vi faccio sentire un po' di suoni di questi suoni ma con l'effetto eco non so se metterli in mezzo al trigger in sé o alla fine vedete anche se vi piace l'effetto adesso lo faccio per un minuto così così riesco a farlo anche con questo un po' di sottotitoli 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 e allora ho spento le luci perché vanno praticamente resistenti ok io vi ringrazio di essere stati qui con me e magari adesso sottofondo con la pallotte vi metto il rumore della piazza come video finale liquido come suono finale liquido e io penso proprio penso proprio penso proprio si è aggiunto e allora abbassare le luci e augurarvi augurarti augurare a te mia meraviglia e augurare a te augurare a te augurare a te una buona 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 buonanotte buonanotte sognitor buona 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 bu show you a rap good night good night good night good night le canocht le canocht buonanotte ai miei piccoli magrosi al pistacchio questa volta è uscito che il dolcetto era chiamato buonanotte un bacione grazie come sempre di tutto che li spera buonanotte ai miei piccoli buonanotte ai miei piccoli maggiore un bacione e l'abbiamo un bacione buonanotte ai miei piccoli maggiore e le bambine viene buonanotte ai miei piccoli maggiore maggiore E' un po' di più Quattro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.